In realtà noi facciamo pagare 120.000 euro per usare il Palazzo Vecchio, ma a chi? Al mondo della moda del lusso. Io francamente non sono per demonizzare le grandi aziende del lusso, perché marchi come quelli che abbiamo a Firenze, come Ferragamo, come Gucci, oppure in Toscana, come Prada e come tanti altri, sono marchi che portano nel mondo il Made in Italy, che danno da lavorare a tanti giovani, a tanti artigiani e francamente prima di scrivere una polemica a buon mercato contro queste realtà, verrei a fare un giro qui a Scandiccia a vedere cosa significa avere grandi aziende della moda per il nostro territorio e per il mondo del lavoro.